Nel firmamento dell'astrologia esoterica, il simbolo di Mercurio risplende come un messaggero celeste, portatore di intelligenza, comunicazione e adattabilità. Questo simbolo, che unisce un cerchio, una croce e una semiluna, è molto più di un semplice segno astronomico. È una rappresentazione profonda delle energie mentali e comunicative che guidano la comprensione e l'interazione. Il cerchio, la croce e la semiluna, armonia di spirito, materia e mente. Immaginate il simbolo di Mercurio come un alchimista celestiale, dove il cerchio rappresenta lo spirito. La croce simboleggia la materia e la semiluna è il simbolo della mente e dell'intelletto. Questa combinazione di forme è come una formula magica che unisce gli elementi essenziali dell'esistenza, lo spirito, il corpo e la mente. Come in un incantesimo, il simbolo di Mercurio simboleggia l'armonia e l'equilibrio tra queste tre componenti della vita. Mercurio, dio del commercio e della comunicazione. Mercurio, nella mitologia romana, è il dio del commercio, dei viaggiatori e della comunicazione, e il suo simbolo astrologico incarna queste qualità di scambio e interazione. Come un mercante che viaggia tra i mondi, il simbolo di Mercurio esprime la capacità di muoversi agilmente tra diverse sfere di pensiero e di esperienza, facilitando lo scambio di idee e informazioni. L'intelletto, luce guida dell'umanità. Il simbolo di Mercurio rappresenta anche l'intelletto, la capacità di pensare, analizzare e comunicare. È come una torcia che illumina il cammino nel buio, una luce guida che ci aiuta a navigare nel complesso mondo delle idee e delle relazioni. Nel contesto umano, simboleggia la nostra capacità di apprendere, di adattarci e di connetterci gli uni con gli altri attraverso il linguaggio e il pensiero. La comunicazione, ponte tra anime. Nell'esoterismo, il simbolo di Mercurio è spesso associato alla comunicazione, non solo nel senso fisico ma anche in quello spirituale. È come un ponte che collega diverse isole, permettendo il passaggio di pensieri ed emozioni. Questo simbolo ci ricorda che la comunicazione è fondamentale per la comprensione reciproca e per la costruzione di relazioni significative. Conclusione Il simbolo di Mercurio, un inno all'intelletto e alla comunicazione. In conclusione, il simbolo di Mercurio nell'astrologia esoterica è un potente promemoria dell'importanza dell'intelletto, della comunicazione e dell'adattabilità nella nostra vita. Ci invita a valorizzare la nostra mente, a utilizzare il linguaggio come strumento di connessione e comprensione, e a riconoscere l'importanza dell'equilibrio tra spirito, corpo e mente. Nel suo design complesso ma armonioso, troviamo un inno all'intelletto e alla comunicazione, elementi chiave che guidano il nostro viaggio attraverso la vita e le nostre interazioni con gli altri. Grazie